Assessore, una soddisfazione venire qui al Vinitaly perché il vino è un comparto che funziona in Italia? Il vino è un comparto che funziona in Italia, come tutte le cose poteva funzionare anche meglio, ci stiamo impegnando per fare in modo che questo succeda. Devo dire che il successo ormai di Vinitaly è un successo planetario, ci piacerebbe che questo luogo non fosse solo un luogo dove si fa fiera, ma che fosse anche un luogo dove si possa ragionare in termini concreti di politiche sull'agricoltura, di politica sul vino o di quello di cui noi parliamo da tempo.